fa anche ridere perché pochissimo tempo fa è uscita la mia canzone Old Me e la premiere mondiale l'ha fatta Armin Van Buren Armin Van Buren è stato il DJ per il quale io ho iniziato a suonare ed è stato in assoluto la prima persona che mi ha ascoltato mi dai un attimo il tuo il mio infatti è morto scusa se non c'erano le domande è stata la prima persona in assoluto per la quale io ho iniziato a suonare e lui è stato il primo che ha fatto la presentazione del mio disco di Old Me e adesso vi faccio sentire vai vai mettilo sul microfono vai e qui stai là Dardeggi Dardeggi la media chiara qua per te è un podcast con la birra ciao a tutti ragazzi bentornati al nuovo episodio di una media chiara qui con noi ragazzi c'è primo ospite spunta blu cioè oggi abbiamo un ospite speciale molto importante qui con noi Federico Dardeggi ragazzi buongiorno benvenuto buonasera 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 perché sera come stai non ci capiamo mai niente tutto bene tutto bene grazie tra l'altro ospite spunta blu che oggi lo dico io berrà la birra blu perché essendo minorenne oggi a una media chiara l'episodio sarà una media chiara analcolica perché io berrò birra analcolica quanto siamo responsabili siamo responsabili super responsabili super responsabili abbiamo anche tolto la marca ma tanto ormai penso che si capiscono non fa niente si potrà anche capire ma non c'è scritto comunque c'è scritta analcolica esatto c'è scritto analcolica allora noi allora ci tengo anche a specificare tutto lo staff di una media chiara noi generalmente siamo contro queste cose assolutamente questa casistica però è eccezionale e corretta corretta anzi ti invito a versarla che facciamo un bel brindisi esatto così partiamo col brindisi a proposito tu hai qualche brindisi no perché tu non bevi mai è vero io li faccio con la coca cola i brindisi se va bene dai dai uno con la coca cola no no speciale no basta facciamo un cin 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 e questa cosa del brindisi penso che la elimineremo eh sì cioè voi li avvisiamo prima non è che tutti possono improvvisare i brindisi qua cin cin salute ragazzi salute scout la fede oh occhio occhio alla nuova scritta esatto abbiamo la nuova scritta Mauri non farla cadere per favore però devo dire la verità mi manca un po' quella vecchia una mecia chiara l'ha diventato sì 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 è un po' come la weir è la soprarotta in realtà è successo però era bella anche così rotta non lo so aveva il suo fascino peccato è un cambio d'era è una nuova rivoluzione vabbè noi arriviamo comunque dall'evento vorrei dire anche questo esatto esatto quindi facciamo anche un piccolo ringraziamento ringraziamo tutti gli artisti tutte le persone che hanno collaborato che hanno partecipato all'evento il comune comune le bistrò le bistrò di Villa Burba tutti gli artisti ho dato una mano lo staff di Una Media Chiara tutti quanti raga grazie mille fantastici davvero è stato bellissimo sono ancora emozionato state connessi perché vabbè arriviamo a Fede dai esatto dai iniziamo Fede vuoi presentarti ti facciamo la solita fatidica domanda orribile che per te forse è anche più pesante chi sei? sono Federico Gardenghi frequentatore del terzo tra poco quarto anno di liceo linguistico che nel tempo libero gli piace fare casino in discoteca e suonare nelle discoteche ecco perché anche noi facciamo casino in discoteca esatto il mio lavoro è schiacciatore professionista di pulsanti mettiamola così ossia DJ da tanto tempo da sì questo è il decimo anno in attività ah no aspetta 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 terza liceo perché per ora abbiamo solo detto che sei minorenne e già qualcuno si starà ponendo la domanda e com'è possibile? tu hai 17 anni 17 anni infatti il 10 maggio cioè pensate pure freschi freschi e tu hai 10 anni che fai il DJ sì attivamente sì assurdo attivamente perché poi in realtà tu sei partito molto prima io ho letto che a 5 anni hai ricevuto la tua prima consiglia sì la passione in realtà è nata ai 3 come solo passione per la musica però da 10 è considerabile che vado a fare eventi o che suoni in giro quindi poi a 10 anni facevi gli eventi eh sì infatti farò tantissimi paralleli con la mia vita tipo io a 5 anni va dai vai vai avevo imparato l'alfabeto probabilmente ok e 10 anni? lui faceva gli eventi tu? a 10 anni e mulavamo Justin Bieber con la cappellata sì 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 allora facevo anch'io tranquilli una volta i miei mi prendono tuttora in giro per questo io sono un ragazzo magrissimo premetto da questo avevo visto il documentario di Justin Bieber e mi sono presentato il giorno dopo dopo essermi svegliato con una cannottiera intima pantaloni mezzi abbassati con le mutande tutto di fuori praticamente è giù a fare Justin Bieber col cappellino tirato all'indietro quindi tranquilli anch'io mulavo Justin Bieber ottimo noi eravamo più da ciuffo eh sì tipo emo sì sì no certo noi avevo il cappello tutto tirato indietro che pesavo 20 kg in più solamente per il gel che avevo in testa e come cioè è nata questa roba qua hai iniziato a fare il DJ ma cioè perché per ora hai detto che fai casino in discoteca però è qualcosina di più a livello decisamente molto molto superiore perché sai uno si aspetta ho 17 anni fa il DJ farà qualche serata in discoteca ci sarà qualche localino piccolo dove gli avranno dato un po' di spazio beh no non mi pare che sia così più o meno no più o meno è molto umile però ragazzo umilissimo molto umile quando è stata la tua prima serata ti ricordi? la prima infatti ti dico che è il decimo anno perché è stata il capodanno 2012 no 2011-2012 in montagna andavo in questo posto in montagna dove avevano allestito questo palco era il palco dove volevamo fare l'evento di capodanno quindi la musica media era waltzer però c'era una console classico da montagna io avevo già questa passione per Natale i miei genitori e me avevano regalato le cuffie ed ero uscito con mio nonno e avevo visto questo posto ovviamente sono andato dentro e sono uno sfrantegatore di professionista mettiamola così cioè se non tu l'hai ti sei proposto sono andato là ho detto posso suonare e lui mi fa va bene questo ragazzo che tra l'altro adesso tuttora è un mio carissimo amico che aveva litigato con chiunque perché ovviamente stava mettendo un ragazzino di sette anni dietro una console però comunque è stata la prima volta infatti ero andato a casa avevo preso cuffia cd e tutto perché suonavo con i cd ed è stata la prima volta effettivamente che ho messo mano dietro una console professionale madonna che bomba a sette anni tutto questo a sette anni quella era la prima volta che non utilizzavi una professionale perché prima sì prima avevo una console che mi era stata regalata a Natale però era considerabile come un controller basico di Amazon di questo periodo quindi una cosa super super basic quindi tu sapevi già muoverti più o meno mi fai suonare sì in realtà cioè capito ragazzino di sette anni che arriva su una console professionale dal nulla la inizia a usare e quindi dal waltzer sono passati a ballare dal waltzer sono passati alla trance perché io suonavo trance quindi il genere di Armin Van Buren stiamo parlando di 145 battiti al minuto che suonavo a un pubblico medio di 57 anni perché gli piacevi andare quasi sì 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 ma poi un ragazzino di sette anni era capodanno avevano tutti lo spritz in più quindi va bene un po' di vin brulee gli aveva a scaldare c'era vin brulee va pure in montagna cioè già solo che vedi comunque cioè anche se fosse un quindicenne già ti caseresti un bot sì esatto è lì che ti metti la tecca cioè io un po' tra l'altro è bellissimo il tuo video quello che c'è su YouTube quello a Catania quello che ha fatto tipo record sì e pensa che quel video lì l'ho potuto fare quello lì era il secondo anno che suonava Catania perché quel video che mi avevano fatto una volta in montagna l'aveva fatto un ragazzo olandese l'aveva visto questo organizzatore di Catania Angelo Catania e lui aveva deciso che mi voleva portare in questo locale che si chiama l'Afrobar che è uno dei locali più importanti in assoluto famosissimo esatto uno dei locali più importanti in assoluto è la Sicilia mi lì si era tirato dietro chiunque aveva litigato con tutti e avevo fatto quell'anno lì il primo evento di l'Afrobar che si chiamava il Federico Gardenghi Day e era stato fantastico c'è il tuo giorno pure e si chiama 27 luglio 2013 che boh tu che anno sei? 2004 io mi immagino gli organizzatori i responsabili tu avevi nove anni e c'era l'evento Federico Gardenghi Day ma raga assurda mamma mia non lo so ma prodige dir poco scusami a nove anni un evento col tuo nome ma immaginatevi i responsabili che accolgono Federico Gardenghi e noi abbiamo appena aperto la puntata dicendo è stato emozionante bellissimo una media chiara alla festa la bellezza di 23 anni a nove anni c'era il Federico Gardenghi Day io quindi iniziato in Italia però si è anche uscito poi no? si in realtà sono anche un po' considerabile un figlio dei social un figlio dell'internet perché la fortuna grande che ho avuto è che ogni evento che facevo in un modo o nell'altro il primo evento facevo un video che poi mi portava a fare il secondo il secondo dove ne hanno fatti due video e quegli altri due video ti trovavano online ti vedevano principalmente sono cresciuto online sì perché poi in realtà è nato tutto il primo evento all'estero che ho fatto l'avevo fatto in Grecia e l'avevo fatto perché uno degli organizzatori della Sicilia con cui avevo fatto un evento dove già ero riuscito a fare un po' di eventi in Sicilia conoscevo questo organizzatore della Grecia avevo fatto questo primo evento in Grecia non te lo descrivo neanche c'era letteralmente io mio papà il tecnico delle luci neanche l'organizzatore perché non era neanche venuto e forse altre due persone però comunque era stato il primo evento all'estero che avevo fatto è già qualcosa comunque poi da lì è andata meglio direi no? sì da lì sicuramente il più bello che hai fatto fuori fuori casa diciamo allora i più belli secondo me sono due uno è la street parade di Zurigo perché c'erano un milione di persone tu ci sei andata la street parade la street parade è clamorosa veramente ma che anno questo? 2017 l'anno prima che sei andato tu tu sei andato nel 2018 nel 2018 sì per chi non la conoscesse la street parade è questo evento dove c'è tutta la via principale di Zurigo con circa un milione di persone e ci sono questi 9-10 camion che passano in mezzo a queste persone e ne veramente vedi 200.000 persone alla volta e poi sono questi 10 camion che passano in mezzo a queste persone ci mettono 12 ore per fare un tragitto di 2 km ovviamente però comunque è bello perché ogni carro con la musica sì ogni carro ha il suo stile di musica ha il suo stile di ad esempio io avevo suonato in questo carro dove erano tutti vestiti da romani da romani io sono gladiatori io no perché sin da piccolo ho sempre odiato i travestimenti però erano tutti vestiti da gladiatori così beh un'altra domanda che ti devo fare invece riguarda Carl Cox sì assolutamente oddio non lo so io ho visto un po' di cose ma ho paura di esprimermi il mio riguardo raccontami Carl Cox allora dal tuo punto di vista cosa è successo in realtà è nata già da prima perché con i miei genitori avevamo avuto una streak mettiamola così di anni dove eravamo andati in vacanza a San Vitolo Capo in Sicilia e io avendo questa enorme passione ho detto mamma quest'anno andiamo in vacanza Ibiza e aveva l'anno prima era stato il 2013 l'anno 2013 e noi eravamo andati in vacanza in questo villaggio Ibiza Playa de Mbossa e davanti a questo villaggio c'era il bagno il lido ed era il lido gestito da Carl Cox solo che io non lo sapevo però e noi andavamo lì al mare ed era divertente perché io e mio papà avevamo deciso di andare lì perché prima avevamo fatto il giro di tutta la spiaggia dove c'era per trovare il lido che suonava meglio con le casse migliori e ne abbiamo trovato uno con tutto l'impianto Function One che è il numero uno e abbiamo fatto tutto il giro per vedere quale suonasse meglio tu quanti anni avevi? 8 o 9 ok ok vai 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 avanti e andavamo lì tutti i giorni avevo chiesto a quello che lo gestiva se potessi suonare e mi aveva detto torna questo pomeriggio era una mattina e vieni qua con la tua chiavetta con la tua musica ero andato lì avevo iniziato a suonare e ad un certo punto mi giro e vedo Carcox che stava pranzando lì in quel lido e ovviamente panico più totale però continuo ad andare avanti a suonare mi rigiro 10 minuti dopo c'era Carl di fianco a me che era lì da letteralmente 20 minuti ad ascoltarmi io non me ne ero neanche accorto perché ero troppo concentrato cioè non accorgerti che ti arriva Carcox a fianco ai tuoi 8 anni quindi non so che tra l'altro Carcox se ti passa davanti veramente ti fa tanta ombra cioè esatto a quanto pare sarà stato il solo in fronte quindi non me ne ero accorto ma tu a quell'età già realizzavi che fosse Carcox sì 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 lo conosci dai sì e lui era venuto lì abbiamo siamo finiti per suonare abbiamo suonato un po' insieme abbiamo fatto un B2B esatto e lui aveva messo questo post su Twitter che è stato un po' all'inizio di poi da lì esatto l'esplosione specialmente di tutto quello che ho fatto all'estero e beh quindi puoi ringraziare anche assolutamente ci parli ancora ogni tanto sì ogni tanto sì ma io saluto in inglese vai vai hello Carl hello whenever you want Carl we are waiting for you anche poi questa roba dell'inglese cioè tu sei bravissimo a parlare l'inglese ormai sono madrelingua allora l'inglese per quello che faccio è importantissimo e ho avuto la grandissima fortuna di andare in una scuola alle medie dove facevano un corso di madrelingua quindi con questo professore Mr. Patrick numero uno avevo fatto questo corso di madrelingua che mi ha sicuramente aiutato veramente veramente tanto come l'inglese le due lingue sulle quali che ho voluto imparare per parlarle il meglio che posso sono l'inglese e lo spagnolo perché sono le lingue che alla fine parlerei di più per il lavoro che faccio vabbè sono quelle che ti permettono di comunicare tedesco no tedesco no tedesco non ancora perlomeno comunque in Germania vabbè in Germania parla l'inglese però parla l'inglese anche in Olanda comunque Nord Europa parla tutto l'inglese per un male chi non parla l'inglese è spagnolo sì però comunque se ci pensi che in Olanda loro a scuola studiano in inglese sì sì in Olanda già dai cinque anni parlano olandese è un po' come se fosse un dialetto per loro ma anche i cartelli in giro sono più rari quelli in olandese è molto raro trovare un cartello in olandese molto molto raro ma tu invece quanto sei ad Amsterdam adesso non ho capito perché me la stai nominando sempre più spesso in questo periodo poco in questo periodo col covid poco però prima molto spesso perché lavorando con l'Armada Music che è una casa discografica con sede ad Amsterdam dove hanno uno studio dove lavoro molto spesso e andavo lì comunque spesso proprio per lavorare andavo lì di base come studio purtroppo in quest'anno di covid un po' meno però già da settembre penso di penso di ritornarci qualche weekend per poter lavorare là ascolta ma parliamo invece della situazione post covid cioè come ti approccerai allora in realtà è un po' complicata per tutti perché se ci pensi che adesso stiamo registrando la puntata giovedì 8 luglio e a giovedì 8 luglio non nessuno ha idea di quando le discoteche riapriranno neanche voi vero nessuno ma hai già ricevuto qualche invito qualche pensa che proprio oggi hai ricevuto un evento un invito per un evento in spiaggia a Ferragosto però anche loro dicono loro l'evento non lo possono fare finché gli danno il 100% della capienza perché eh sì perché se ci pensi i locali adesso sono al 50% sono al 50% però va bene però questo è in Italia no? l'Astero sì in realtà anche a Londra avevano riaperto poi hanno chiuso visto che ad Amsterdam hanno giocato un evento con 1500 persone sì però anche lì hanno veramente tanti tanti problemi perché comunque se ci pensi specialmente i locali più piccoli dopo un anno e mezzo che sono chiusi non è che possono riaprire al 100% no non possono riaprire al 100% proprio nel senso di investimenti ah ok certo perché è proprio una cosa che non possono fare fisicamente quindi a meno che loro non li fanno riaprire al 100% della capienza moltissimi locali già hanno tanti problemi economici adesso e sicuramente non si prendono il peso di portare un DJ esterno sicuramente quindi anche tu gli ultimi eventi che hai fatto sono tutti eventi live l'ultimo evento che ho fatto fisico è stato l'8 di febbraio 2020 sono poco più di 500 giorni che non salgo su un palco ti manca eh sì veramente tanto quando da quando passi a prendere a fare un evento ogni weekend due eventi a weekend con una media di 50 60 aerei all'anno a prenderne 4 per andare in vacanza è forte è stravolto la vita eh sì sicuramente già solamente essere a Milano ogni weekend per uscire con i miei amici non mi sembrava già vero perché anche loro non sono più abituati a vedere ogni weekend adesso mi dicono basta torna a suonare basta eh beh però veramente che vita cioè nel senso di tutto questo hai 17 anni ma tu questa cosa come la percepisci tu questa roba qua chissà quanto spesso te lo dicono cioè io ormai l'ho detto già 7 volte quando abbiamo iniziato però perché mi pare assurdo quanti anni hai Fede? 17 assurdo ma cavolo però allora in realtà sembra una cosa così strana però i ragazzi che hanno un impegno con uno sport a livello agonistico ci mettono lo stesso se non molto più impegno di quanto ce ne metto io perché loro fanno tutti se ci pensi un ragazzo ti prendo un esempio uno dei miei migliori amici fa nuoto a livello agonistico e lui fa gli allenamenti tutti i giorni e tutti i giorni con degli orari precisi io durante la settimana non è che lavoro tutti i giorni della settimana durante il weekend lui prende va via e va magari a Parma a fare a fare una gara di nuoto io non vado lì magari vado in aeroporto e prendo un aereo però l'impegno che ci metti il tempo che stai fuori di casa alla fine non cambia è sicuramente un ambiente diverso no ma sai cosa a me piace proprio il fatto anche che hai citato il nuoto perché io pensavo questo che io ho 8-9 anni la mia più grande soddisfazione è stata vincere una medaglia d'oro a nuoto 8-9 anni back to back con tranquillo tranquillo anche io con gli sport facevo le gare di sci penso di essere forse l'atleta che ha preso più premi di consolazione nella storia di un ciclato letteralmente io a casa ho una bacheca di premi di consolazione noi facevamo le gare e il primo faceva mi sparo un numero un minuto e trenta io facevo un minuto e quarantasette praticamente lui per fare il mio tempo doveva fermarsi prendere un caffè tranquillamente guardava Interstellar un film da tre ore e mezza arrivavamo allo stesso tempo però vedi che andare in montaggio poi è servito a qualcosa sì almeno è servito non sicuramente a farmi fare carriera come sciatore sicuramente come sciatore però il primo capodanno l'hai fatto lì no? sì altro tipo di carriera esatto sciare comunque però rimane il mio sport preferito anche se i pali ogni tanto non riuscivo a prenderli però vabbè considerando che prendendo un palo mi sono spaccato una gamba quindi sicuramente la carriera da sciatore anche no l'importante era non spaccarsi le mani quella ti serve un personale sì esatto invece l'ho rotto in piscina mi sono rotto un nel radio nel porca vacca al polso e per quanto non hai suonato quelli sono utili mica le gambe eh lo so le gambe vabbè in modo dell'altro lo sgabello le riesco a fare no era il secondo elementare e quanto sei stato fermo? cioè già alla fine suonavi no suonavo ma non suonichiami sì però comunque sarò stato fermo uno o due mesi col gesso sarò stato gennaio l'avevo rotto a gennaio quindi comunque una roba easy non un problema così grande avendo entrambe le mani adesso sto bene esatto ma scusa ma questa cosa che sei giovane tocchiamoci quanti anni hai scusa? 17 se non sbaglio ok perfetto te lo ricordi il mio compleanno però? sì io sì oddio 26 maggio tipo cioè sei quasi 28 maggio 10 10 ah è vero l'ha detto poco fa 2003 2004 2004 4 cavolo nel 2004 noi iniziavamo all'elementare ti ricordi? dai mi devi far sentire vecchio ma ascolta ma ti cioè quando hanno smesso di trattarti come un ragazzino gli organizzatori delle discoteche? allora in realtà a me è sempre sembrato strano perché sin dall'inizio non sono mai stato trattato come un ragazzino né da collaboratori che ho avuto né da né da altre persone ci sono state anche magari tante volte tante brutte cose che magari ho vissuto di tante persone che volevano la mia età solamente per investirci sopra ma non le interessava la crescita mia sia personale che da artista ma solamente il fatto che fossi il DJ più giovane del mondo però comunque non ho avuto la fortuna di non essere mai stato trattato come bello come ragazzino perché comunque ti hanno trattato da professionista ma è una cosa per la quale devo anche ringraziare tanto specialmente tantissimi paesi all'estero dove ho lavorato che è proprio il rispetto per chiunque faccia qualcosa ed è proprio una cosa secondo me che fa parte della loro cultura non molto italiana anche in Italia ma sicuramente molto di più l'hai sentita molto di più all'estero e dimmi i locali più belli dove hai suonato quelli che proprio ti sono rimasti di più che dici ok qua abbiamo fatto la seratona allora conta che io sono un nerd molto nerd quindi ti potrei dire che uno dei locali più belli è stato uno dove ho suonato in Lussemburgo dove c'erano pochissime persone ma il club aveva delle luci un impianto luci della Madonna quindi per me è uno dei locali più belli luciverdi cosa? era luciverdi ho visto forse hai suonato in un locale in Lussemburgo da giovani si può darsi era quello no però forse uno dei più belli in assoluto era Metz in Francia nord nord est della Francia nel 2016 ed era è stato uno dei video più visti in assoluto che io abbia mai fatto ed era questo locale dove tutto sul tetto magari l'avete visto c'era tutto un tetto di led che si muovevano e si alzavano e si abbassavano era veramente assurdo sì incredibile e invece i DJ più forti con cui ti sei diciamo trovato a far serate anche insieme so privi o cose allora ti direi forti ce ne sono tanti però ce ne sono alcuni dei quali non mi sarei mai aspettato fossero così delle brave persone Jay Hardway ad esempio uno dei collaboratori più storici di Martin Garrix 90% delle canzoni più famose di Martin Garrix sono in collaborazione con Jay Hardway lui è uno di quelle persone che ho conosciuto ad un evento in Germania e dopo siamo andati a mangiare una pizza insieme in Germania non ve la descrivo neanche la pizza era focaccia con il comodoro gli ho detto nicest pizza I've ever had però comunque era stato carinissimo ma secondo me dipende anche Armin Van Buren DJ numero 1 al mondo più volte nominato come numero 1 al mondo non ci vedevamo da un anno è arrivato mi vede ciao Federico e si mette lì a parlare a parlare con me che è una cosa che se ci pensi lui è il numero 1 lui non avrebbe bisogno di farlo ma lo fa perché è proprio la cultura che hanno loro del fatto di portare rispetto per qualunque cosa che è quella più corretta per me è l'insegnamento perché poi lo fai anche tu sicuramente ma è l'insegnamento migliore che puoi prendere perché è un po' come dire per un calciatore che conosce Ronaldo Ronaldo si mette a guardare i tuoi video delle partite e ti dà consigli su quello che fai tu è proprio è la stessa cosa Armin Van Buren è maradona del calcio è maradona della musica e in Italia chi è secondo te quello che spinge di più oltre Federico Verdi allora Merck e Cremont sono molto forti loro sono molto molto bravi sono dei produttori super super talentuosi hai collaborato con loro? con loro no ci sono amico ma non anche loro sono giovani loro hanno sono sì penso non ho idea parerei una cavolatissima sull'età però anche loro sono molto giovani non è la prima volta che nominiamo Merck e Cremont al podcast però ti dico con Nia sì è vero sono giovani sono delle 95 96 ci sta però in realtà i più famosi in Italia sono si chiamano due ragazzi si chiamano i Vinai sono di Brescia che in tantissimi non li conoscono sì però adesso io aprirò Spotify non mi funziona il telefono vabbè non si apriva non so perché e hanno fatto collaborazioni con con Hardwell hanno fatto uscire una canzone con Hardwell con Martin Garrix credo abbiano fatto una collaborazione di Winter Vegas e Lake Mike e loro che penso quest'anno siano tipo 26 esimi al mondo battendo artisti come Lost Frequency Scarcox Marshmallow sono veramente veramente forti specialmente nel mondo delle DM ma ascolta ma quanta fatica quanto tempo quanto impegno richiede organizzare un live un DJ set live allora per me in realtà dipende dall'evento che faccio perché ci sono magari tanti eventi dove vado e non preparo nulla vado lì e vado solamente a fare improvvisazione però ci sono tanti eventi dove magari io voglio portare uno show e quindi ci mettiamo una cosa come milioni di ore prima perché programmiamo le luci per ogni canzone il video per ogni canzone perché la gente non lo pensa non lo immagina eh sì però a parte col drop devi avere la luce eh sì pensa che tutto quello che facciamo ogni canzone specialmente negli eventi più grossi ha un tempo e durante questo tempo vengono sincronizzati in base al punto della canzone luci effetti speciali video cioè praticamente una volta che arrivo lì io schiaccio play per ogni canzone play della seconda mixandole però in realtà tutto il sistema tutto quello che vedi è tutto sincronizzato quindi la fatica è prima la fatica è prima però in realtà ci sono anche tantissimi eventi considerati eventi basking si chiamano e tutti questi eventi basking sono gli eventi che tu improvvisi dal vivo sia come luce che come video che come musica e sono quelli sicuramente più divertenti però la bravura del tecnico delle luci lì è anche tantissimo la bravura del tecnico e tra l'altro vi racconto una cosa molto divertente dei tecnici delle luci non so se voi lo sapete ma il tecnico luci numero uno del mondo noi ce l'abbiamo in Italia si chiama Jacopo Ricci e l'ultima cosa che ha fatto prima del covid penso sia stato il tour di Travis Scott ah leggerino niente di che prima immagino che le luci saranno state basate prima ha conosciuto io sì lui l'ho conosciuto numero uno di persona sai che non ci siamo mai conosciuti però ci conosciamo dai social prima ha fatto il tour di Janet Jackson il tour di Alesso lo show di Martin Garrix ad Amsterdam l'ha programmato lui che altro c'è ah Fedez Fedez l'ha supplicato di potergli fare il suo tour ma se ve lo cercate su Instagram è qualcosa di fuori di testa le cose che fa è uno di quelli che beh le luci fanno tantissimo in un live sì poi lui è uno di quelli che se vai a uno dei social ogni tanto ti vedi un ologramma spuntare da qualche parte sono tutti un po' fuori quelli che fanno invece ma tutti delle idee della Madonna lo chiamiamo ah sì ma guardate che se lo chiamate probabilmente vi tira fuori un ologramma qua davanti se ci fa un ologramma di una birra alla Tupac al Coachella no però guarda che è vero probabilmente ha fatto lui pure quello oddio veramente no dai non lo so non voglio dire cavolate però ne sarebbe in grado per la sua bravura ne sarebbe veramente in grado però guarda che è vero le luce comunque tutto quello che sta torno al live fa tantissimo cioè se tu ti mettessi a suonare bravo quanto vuoi c'è molto più tempo dietro la creazione di uno show ma non non so se riesci a trasmettere cioè la luce e tutto il resto tutto quanto il fumo sì sono d'accordissimo con te però dipende dai generi cioè un genere sicuramente come la Big Room Lady M Dimitri Vegas e Rick Mike così ha bisogno di uno spettacolo di uno show però un genere come il mio come la Tecno è un genere che tu potresti tranquillamente suonare su una spiaggia di giorno senza luce senza niente anche quello per il spettacolo sì avrebbe lo stesso impatto però dipende veramente tanto dal genere se tu senti una canzone di Barsingarricks e la senti da una cassa della GBL non rende non rende l'idea se lo vedi su un main stage di 200 metri per 200 metri sicuramente di più infatti un grandissimo vantaggio del mio genere è quello però sicuramente quando metti uno show dietro alle tue canzoni alla tua musica sicuramente aiuta ad elevare tutto e se pensi che viene speso veramente 15 volte il tempo di quello che io ci metto a preparare la musica solamente per preparare tutto ciò che è luce tutto ciò che è il video ti rende veramente tanto l'idea il tuo lavoro di preparazione mettiamola qui cioè tu quotidianamente come allora il lavoro del DJ si divide in due parti il lavoro del produttore e il lavoro dal vivo il lavoro del produttore è quello di creare le canzoni canzoni che ci sono su Spotify e le canzoni che poi io suono dal vivo perché quello che faccio dal vivo è che metto una canzone in successione all'altra e un DJ è bravo quando questa successione la riesce a fare bella quante volte vi è successo di andare in discoteca c'era una canzone bella e la canzone dopo tornavate a sedervi perché non era bella esatto il lavoro del DJ è quello di tenere per un'ora e mezza lo stesso ritmo e lo stesso livello quindi portare in un viaggio comunque portare in una continuità il lavoro del produttore è quello di crearlo prima invece poi la creazione di uno show live dipende ad esempio per me io quello che faccio è che se vado in un posto dove ho già suonato tipo in un locale dove sono già stato in Spagna ho già una playlist per quell'evento se vado in un posto nuovo dove non ho mai suonato prima e non conosco le persone solitamente quello che faccio è che uso la mia intro la mia introduzione metto una canzone che si assomiglia più ad ogni stile quindi una più verso la tecno più pesante una più verso la tech house e una più verso l'house e vedo quale reagisce meglio e poi lì però sicuramente la cosa più importante del mondo del DJ quindi tu vai molto anche a specchio di pubblico sì sì no vado solo a specchio di pubblico solo a pubblico perché la cosa più importante è sicuramente l'esperienza perché impari che ad esempio in Spagna se vai nella zona di Bilbaoli ascoltano la tecno pesante se vai nella zona di Madrid guai se metti la tecno in Germania ci sono dei posti in Germania dove la tecno Madrid hardcore basta? cosa? a Madrid no ma a Madrid ascoltano la tec house a Madrid vogliono la tec house a Barcellona vogliono la tec house ad esempio e impari qual è proprio le regioni le vedi proprio come genere di musica se pensi che solamente io in Puglia se suono a Bari devo mettere tec house e se suono a Taranto devo mettere tecno un genere completamente diverso a meno di 200 chilometri di distanza l'uno dall'altro vabbè poi è strana eh sì però però sicuramente 50 chilometri cambia tutto sì esatto cambia sicuramente la lingua anche la lingua la lingua cambia sicuramente no però sicuramente una cosa importantissima è l'esperienza in questo mondo perché impari veramente a vedere ok qui va bene meglio questo qui va meglio quello soprattutto più pubblico vedi più impari il DJ è una cosa che la tecnica la impari la tecnica la si può tranquillamente imparare in due o tre giorni riesce a imparare vabbè tenere live è più un lavoro di relazione dipende anche dall'evento quando magari vedi la line up ci sono dei certi artisti sicuramente ci sono stati tantissimi eventi all'inizio che ho fatto dove mi hanno detto ti essi severamente vietato andarci giù pesando perché ovviamente intero è un artista di introduzione e dipende veramente tanto dall'esperienza che hai col pubblico e più pubblico vedi più sicuramente hai l'esperienza qua a Milano hai mai suonato? qua a Milano sì penso era uno di quegli eventi dove ero stato limitato all'inizio è stato uno dei primissimi eventi che ho fatto nel 2014 l'Holidance Festival è famoso? sì e avevo ho suonato lì per tre anni di fila i due anni che hanno fatto all'estate a Market Sound e l'anno che hanno fatto all'ippodromo di San Siro quello dove ti colori tutto? sì quello dove ah sì è vero l'Holy Color sì che da lì poi è partito che poi è stata l'esplosione per un po' di anni poi ha rotto un po' le purghe è finito penso che loro hanno continuato a fare eventi ma dopo un po' penso che dopo per un anno aveva smesso di farlo a Milano e alla fine Milano era una delle date più importanti che avevano sì poi questa roba del colore si è sparsa un po' sì ma in realtà loro è un evento che adesso anche loro William che è l'organizzatore di questo evento è una cosa che neanche loro farebbero più perché loro hanno avuto l'idea geniale di portare per loro è geniale perché io me lo ricordo quando ho visto le storie la prima volta ho detto oh mio Dio ma che figa lui ha avuto un'idea geniale poi lo fai una volta scopri quanto e lui si è fatto dare anche il brevetto per questa cosa il nome Holiday Dance Festival è un nome che arriva dall'India e lui era l'unico che lo poteva usare solo che poi dopo un po' gli hanno trovato tutte le imitazioni possibili e immaginabili l'hanno fatto così l'hanno fatto con l'acqua hanno fatto la color run e anche lui dopo un po' ha detto sì vabbè basta sì l'hanno fatto a tutte le maniere ma poi anche le feste più scrause a un certo punto avevano questi sacchettini ma sì perché al fine è borrotalco colorato piccolo spoiler è borrotalco colorato comunque è bellissimo averlo qua raga cioè in un ragazzo di 17 anni è commesso a essere bello poi lucido ieri ha fatto il vaccino ha avuto 39 di fisi tra l'altro sono anche strafatto di antibiotici tachiperina così perché ieri ho fatto il vaccino e l'ho fatto con quattro ore di sonno a proposito di strafatto scusa se ti ho interrotto no qui non iniziare no 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 qui ma i dj non parlo di te vedi tanta tanta droga allora ti sfatto il mito subito i dj che pippano i dj che si fanno di droga ci sono ma non sono sicuramente i dj che tu conosci come dj cioè se io ti dico il nome di un i dj che tu conosci non sono i dj che fanno questo però come in qualunque altra cosa io ho visto tantissimo anche magari di miei amici della mia età che fumavano che si facevano le canne nel parco e fidatevi la stessa quantità di persone che vedi nei locali perché ci sono persone che si drogano in discoteca ci sono persone che si drogano in ufficio The Wolf of Wall Street esatto scusatemi vi state dicendo che se una persona si fa di droga in discoteca avete visto quel film lì purtroppo rappresenta quello che è ed è stata veramente Wall Street quindi è proprio ma anche Milano senza andare a fare ma anche Milano basta salire dopo il ventesimo piano è un mito proprio del dj del dj che si fa di droga un po' come dopo The Wolf of Wall Street il mito del broker che si fa di droga è un mito sicuramente e ci sono purtroppo tante persone che lo fanno ma le persone che lo fanno non sono le persone che arrivano al livello di dire sono conosciuto come dj cioè diciamoci la verità se vuoi spaccare non pensare che è con la droga di dj che si fanno le canne ne conosco vabbè oddio sui dj il discorso non è ma come miei amici ma ci sono anche delle persone con cui che conosco magari di lavoro anche dei genitori dei miei amici che si fanno le canne quindi in realtà è una cosa è una cosa diversa è una cosa completamente diversa però no penso sparlassimo di droga un po' più pesanti sì sì no ma anche più per reggere poi tutte quelle ore no eh bravo generalmente il discorso 50 ore in un anno se ti fai non li reggi no dici che è peggio non li reggo io se non dormo almeno 8 ore a notte immaginatevi uno che si droga cioè poverino per lui arriva stremato dopo un po' questa cosa degli orari non deve essere facile cioè la jet lag che parte fai gli eventi di sera di notte più che jet lag quello che ho imparato io sicuramente che mi va di grandissimo vantaggio è che se appoggiasi la testa su questo tavolo adesso riuscirei a dormire ok e se tu mi svegliassi io sarei sveglio esattamente come sono adesso hai imparato questa quindi ho imparato a non riuscire a non dormire ma riuscire a dormire in qualunque momento possibile quindi magari giorni dove dormivo 4 ore 6 ore 2 ore così però comunque pezzettato ovunque sì però comunque per come sono fatto io per come è fatto il mio corpo se non dormo abbastanza ogni notte io mi ammalo e prendo la febbre cioè il mio corpo è proprio fatto così è normale perché comunque ti debolisci lo so ma è proprio una caratteristica del mio corpo che io mi indebolisco subito se non dormo quindi ho imparato a recuperare il sonno in periodi diversi cioè nel senso poi tu hai fatto il vaccino avevi la febbre fino a poco fa e fino a un po' di fa avevi 4 ore di sonno prima che hai fatto il vaccino giusto? quindi motivo in più ti sei ribeccato magicamente vai raga ci sono registriamo ok fantastico comunque questa cosa ed è più lucido di me cioè è pazzesca questa cosa vabbè non che ci voglia tanto ascolta visto che hai tirato in mezzo anche tua sorella sì vero? sta diventando anche la Sofi e anche lei suona lei in realtà non è la sua cosa principale perché lei fa ginnastica ritmica tra l'altro quest'anno è arrivata terza l'anno scorso campionessa italiana di ginnastica ritmica sono super super orgoglioso salutiamola ciao Sofi ciao e lei è più piccola di te lei è più piccola di me ed è la mia fan numero uno quella che mi supporta più in assoluto e sopporta più in assoluto perché affinché non ho fatto insonorizzare lo studio lei si beccava 24 ore al giorno la mia musica nella camera di fianco vero? e sì c'è stato pure il periodo prima che ristrutturassimo la casa che eravamo in camera insieme non vado avanti ve lo lascio immaginare a voi sì perché non deve essere facile cioè io quando metto questa musica mia mamma dopo mezz'ora fa ma non ti stufi e infatti no una delle cose più importanti che ho fatto è proprio stata quella di insonorizzare lo studio adesso ci sono dei muri da bunker grossi così dove lì dentro puoi fare quello che vuoi non ti sente nessuno però è stato sicuramente proprio anche di valore economico l'investimento più importante che ho fatto però è stato sicuramente quello migliore perché quando insonorizzi uno studio anche il suono che hai dentro è molto meglio ma i vicini cosa ti dicevano prima? allora fino a prima mi odiavano adesso mi odiano comunque perché comunque una insonorizzazione non è che è totale non è sicuramente totale però magari mi odiano un po' di meno perché quando lavoro quando produco per fortuna le mie casse da produzione sono più piccole delle casse che uso per suonare quando suono dietro la console e quindi non fanno lo stesso casino che fanno le altre però quando suono comunque casino ne fa però alla fine quando suono io suono solamente per registrare per registrare il set della radio ed è stiamo parlando di un'ora alla settimana ma poi tu è vero sei andato anche a radio un botto su M2 ho visto anche una radio oddio dimmelo tu perché io sono poi ah sì no ho capito che è bellissima una presentazione in americano dove diceva anche di Kirk Cox ah sì 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 in realtà io quello che faccio è che preparo questi show per le radio e poi questi show poi vengono distribuiti in tutto il mondo per tutte le radio in Italia in Italia per M2O e poi vengono distribuite a tutte le altre radio calmati Fede sì 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 hai solo 17 no perché poi io ascolto se quando sono in macchina ascolto o M2O o la mia musica grazie è bellissimo perché ogni tanto dicono tutti i nomi degli artisti che mettono e Federico Gartenchi e dico ah sì lui dirò è fortissimo sì no ma te lo giuro io ho guardato quel video lì che c'era questa presentazione a me le radio americane mi fanno sempre boh mi piacciono i jingle delle radio americane no ma anche gli speaker radiofonici perché mi ricordano un botto l'unica l'unico tipo di radio americana che io ho ascoltato era quella su GTA ti ricordi non stop hop mi stai dicendo che l'abbiamo ascoltata tutti qual è non stop hop quella centrale così qua ah ok quel tipo di radio ok ok pensa che io quella radio lì l'ascoltavo c'è un video su YouTube perché quelle sono reali non sono reali non sono vere però le hanno fatte con degli speaker veri quella radio lì se la cerchi su YouTube non stop hop io ascoltavo il programma della radio di GTA anche in casa normalmente era quanto mi piaceva quella radio ma anche io avevo preso una playlist con tutti i pezzi quella vera che era hip hop quante canzioni ho scoperto era GTA io c'è un botto ma poi hanno quel faro e c'è la presentazione sua troppo bella c'è che è così capito che dice this guy we're Coco Federico Federico Gardeng from Italy è una figata incredibile hai appena detto Federico Gardeng così fa anche ridere perché pochissimo tempo fa è uscita la mia canzone Old Me e la premiere mondiale l'ha fatta Armin Van Buren Armin Van Buren è stato il DJ per il quale io ho iniziato a suonare ed è stata in assoluto la prima persona che mi ha ascoltato mi dai un attimo il tuo niente il mio infatti è morto scusa se c'erano le domande no tranquillo è stata la prima persona in assoluto per la quale io ho iniziato a suonare e lui è stato il primo che ha fatto la presentazione del mio disco di Old Me e adesso vi faccio sentire vai vai mettila sul microfono vai e questo è l'altro Federico Gardengi Gardengi 15 anni che ti segui mi ringrazio così Armin frecciatina Federico Gardengi e io ma porra lui è quello che ha fatto this is one of the this is one of the ha fatto talmente tante che può uscire una canzone che stavo dicendo che poi dice anche di Carcox allora sì era questo qui che poi subito poco dopo hai pubblicato sì che olandese non americano però ah ok però vabbè non so confuso un botto la parlata però mi ricorda quelle radio lì a me effettivamente e poi hai caricato pure un video bellissimo mentre vai su M2O tu ti fai dove balla faccia un deficiente no c'è tuo padre che si nasconde e tu che lo riprendi quello non me lo riconosce c'è uno sul mio profilo dove durante il set di M2O ho video fatto dalla mia ragazza dove ballavo come un deficiente e lei mi ha fatto un video di nascosto sì che tra l'altro anche lei fidati se ne becca veramente tante i pippe Nina ti voglio bene bellissimo ecco anche questo rapporto con le ragazze cioè nel senso dai chiediglielo su no 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 cioè visto che comunque adesso ho ricevuto un po' di popolarità diciamola com'è la questione lì ragazzi hai tante richieste tante robe che ti scrivono tante persone cioè si scoprono stanno addosso si scoprono allora allora ti dico io non volevo essere volgare sono passati tanti anni da quello che è passato alle Iene e ti dico la verità sì un DJ rimorchia veramente tanto in maniere spropositate però ti dico io sono un ragazzo che non è mai andato con una ragazza la sera di un mio evento una sera che lavoravo è successo più di una volta dovevi andare a dormire no 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 ma in generale è una cosa che non è mai successa sì è successo più di una volta che ho conosciuto una ragazza per il mio lavoro però sicuramente non è una cosa a cui aspiro ad esempio io sono fidanzato adesso e la mia ragazza Nina è la persona con la quale parlo di più in assoluto di questa cosa e che mi dà i consigli sulla musica così e lei l'ho conosciuta esattamente un anno fa e non sapeva neanche minimamente chi fossi ed era divertente perché mi ha detto dopo ah ma tu ho capito chi sei mia mamma tre anni fa mi aveva fatto vedere un video tuo una tua intervista e fa Nina guarda guarda questo ragazzo cosa fai alla tua stessa età e tu non fai un c***o e dopo tre anni ehi mamma hai visto e dopo tre anni se l'hai ritrovato a casa sua bellissimo ma sai perché tu sei andato anche le iene giusto sì il problema è che ti interrompo un attimo il problema è che la mamma ha scoperto che non faccio un c***o neanche io beh faccio il dj mamma dai scusa sei andato a le iene e com'è io non l'ho vista questa cosa la ve l'avete dato voi ma io non lo sapevo guardala guardala che è meglio facciamo così guardala e poi dopo facciamo una seconda parte no dai perché tu l'hai vista fai tu le domande non l'ho vista te l'ho vista classica domanda secca sì classica domanda set ma cattivi ma si domanda sui porno domanda sulle ragazze e quanti anni avevi domanda su quante seghe mi facessi vabbè noi solo quella sulle ragazze però vabbè ma quella ci stava anche poi sei stato grazie perché gli ha detto so già dove puoi andare a fare poi è bellissima la chiusura ma poi più che altro avevo visto fino a un minuto prima di fare la mia l'intervista di Sfere Basta quei pequeños così e gli facevano domande tipo quando è l'ultima volta che hai pippato loro ah vabbè una settimana fa due giorni fa io ho detto se mi fanno queste domande infatti io mi stavo cagando sotto veramente e pensa che l'abbiamo dovuta registrare due volte perché la prima volta avevamo registrata solo che Cenci il regista aveva detto no non avete fatto domande abbastanza cattive io già pensavo di aver raggiunto il limite madonna vero ma sono proprio cattivi così no non sono cattivi però sicuramente ad esempio una volta mi avevano fatto questa domanda gli alieni fanno quanti follower hai e faccio un quarto di milione in tutto e gli fanno vedi che sei un bastardo non dici 250 mila un quarto di milione suona meglio cioè trovano sempre la piccola la piccola cosa per dire cazzo vabbè però alla fine devo dire la verità anche nella cattiveria con cui pongono le domande poi risulti anche simpatico no a me a me ti dico io quell'intervista lì sono molto contento di come andate è comunque divertente mi sono divertito tanto è un loro format alla fine è il loro format loro lo fanno così non lo fanno sicuramente quando lui ti dice ah non era troppo cattivo non è perché probabilmente vuole attaccare te no 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 era per intrattenere quella cosa lì era un'intervista di intrattenimento comunque anche mentre la guardi tu dici che domande da merda che fate anche se secondo me è più bello il format di Noisy quel format lì era molto bello ecco quel format lì a me piaceva vero perché hanno fatto la giornata con Federico Gartier sì ne ho fatta una simile anche per una televisione pari in Olanda che si chiama Zoom in TV in inglese e quel format lì a me piace veramente ma format tipo quello commenti video una giornata con che intervistano anche la nonna l'intervista inizia con una foto mia dove mi scaccolo e poi inizia con mia nonna pure loro sono belli bastardi sì 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 assolutamente noi siamo bravi invece facciamo per la birra umanizzo dai sì che tra l'altro non ho ancora bevuto inauguro 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 aspettate posso dire fare un cinema ma posso dire che in realtà un po' sono fiero di te no aspettate io sono l'unico problema con la techiperina mi fa effetto secondo voi analcolica analcolica è l'alcol che fa effetto con la techiperina mi fido mia mamma è qua fuori ma per me puoi anche la birra mi piace la birra per me puoi anche che pancherina è là no Fede lo so era meglio se non la bevevi infatti infatti tu quando ci siamo chiamati ho cucciato il dito lì no 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 quando ci siamo chiamati qualche giorno fa per farmi venire qua e lui ho detto non bevo la birra lui no anche se era una chiamata normale ho visto la sua faccia sbiancarsi e dire ma non è possibile ma non è possibile ma quanti astemi abbiamo invitato sì anche voi invitate solo astemi sei il terzo o il quarto cos'è? secondo no che secondo? X Chiara X Germo X Chiara la via c'è una prova la via c'è una prova astemi bene dai bene io direi di fare un attimo un refillino eh bravo chi ci vuole? che ci vuole è una magia? tre due uno ha funzionato? sì me la metti questa volta o no? ok grazie sì però lì devi anche lasciare tutto quello prima piccolo spoiler in tutto quello prima ho detto che negli ultimi minuti potevano farmi tutte le domande che vogliono di qualunque tipo ci tengo a lasciare questa parte saluto il mio avvocato un bacino per l'avvocato allora intanto brindisi ehi non bene brindisi all'avvocato 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 vai Cree dai comincia tu se c'è qualche scena extreme che ti ricordi di qualche festa di qualche evento scena extreme? tipo di gente che arriva sul palco davanti a te si spoglia no anche io so tipe che tirano fuori le tette così no guarda non ho grandissima esperienza con questo una scena extreme mia era un evento che avevo fatto in Spagna e quando suono avevo chiesto a mio papà mi porti una coca cola e stavo suonando che bello ragazzo no no stavo suonando le 10 minuti era calda me la verse in un bicchiere col ghiaccio l'avessi mai fatto non so se lo sapete in Spagna l'acqua del lavandino non è potabile quindi a 20 minuti e mezz'ora dall'evento stavo letteralmente cagato ma in una maniera che poi io mi viene il mal di pancia se bevo un bicchiere di acqua col ghiaccio immaginate se avevo pure bevuto il ghiaccio fatto con l'acqua di qualunque tipo e quindi succedeva che io sparivo dalla console stavo 20 minuti in bagno si ma loro che geni si esatto infatti da quel momento lì non ho mai più versato nulla nel ghiaccio mai più fatto un evento in Spagna esatto però pensare che quell'evento lì dovevo suonare un'ora e mezzo ho suonato solo un'ora e un quarto ho stato tre ore in bagno dopo cioè ero letteralmente devastato pensa che io volevo chiederti qual è stato l'evento più di merda che hai fatto questo è sicuramente stato l'evento più di merda più di così più di così non ce n'è sicuramente però di figuracce sul palco ce ne sono come una volta io essendo un tamarro tamarro dentro quando faccio gli eventi da adesso io richiedo che il mio palco sia montato un palco sopra il palco quindi che dove siano appoggiati i miei lettori sopra sia un palco andando spesso in piedi sulla console una volta non era così quindi sono andato in piedi sulla console sono sceso finisco qua la finisco qui bellissimo ti sei rialzato tutto a posto io stavo bene l'impianto un po' meno dai dai dicene che ne hai fatte altre dai dì la verità ci devo pensare oddio errori errori sul live anche che hai rimediato dai ci saranno un po' vabbè gli errori sul live che schiacciavo il pulsante per sbaglio quelli tipo stoppavi la musica sì più che stoppare la musica ogni tanto mi capitava quando suono con quattro lettori ci sono delle volte che ho quattro lettori alzati contemporaneamente quattro canali alzati contemporaneamente e io volevo mettere una canzone e ogni tanto magari mi dimentico il canale alzato cambio canzone solo che schiaccio poi quella canzone lì si interrompe perché quando schiacci per caricare una nuova quella si interrompe sai che o quello con Carl sicuramente quello ha otto anni o l'hai rimuoto no no quello lì ha otto anni poi ci mi hai risuonato di nuovo no non ancora non ancora lo dico così no forse uno dei più belli che ho fatto era con Nunzio lo Iacono lui è uno è la prima persona che mi ha messo dietro una console in tutta la mia vita la prima 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 in assoluto e quindi con lui è stato uno dei più belli in assoluto perché avevo fatto questo mio evento ad aggrigento e aveva suonato anche lui avevano fatto un back to back quindi era stato era stato bello perché era siamo cresciuti con la stessa musica quindi anche lui della tua età o più grande? no lui è un 90 ah non la sua età l'hai colonizzata all'Italia hai suonato un po' da siciliano però basta queste domande carine che abbiamo pochi minuti ascolta chi è la persona che è più testata sulle palle invece? quello che poi hai odiato di più che non lo puoi vedere non posso dire chi è ma il mio vecchio manager un mio vecchio manager che ha provato a incastrarmi più di una volta siamo partiti da un accorto dove lui doveva prendere il 40% e siamo scesi al 2% vi dico solo questo finca l'hai legnato no 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 nel senso che abbiamo detto siamo partiti al 40% poi ho detto no va bene il 30% no al 20% no vabbè va bene anche il 10% quindi sta provando a inchiappettarmi il 40% oddio non le so capire io queste logiche voleva voleva prendere più soldi di quanti in realtà un contratto normale ne volesse quel tipo di contratto lì richiedeva il 5-10% lui era partito col 40% e se una persona mi rispetta e vuole lavorare con me non parte sparandomi il 40% sperando che io non ne capisca per potermi per potermi fregare anche perché sei stato trattato sempre come un professionista fin da sì ma anche perché è sveglio dai cioè questo è innegabile raga io dopo tre parole che hai detto lui gli dico madonna c'hai 17 anni sì però le persone che ti vogliono fregare sono sempre no ma quelle ce le hai pure a 40-50-60 anni ci sono sempre però comunque sia sai è più facile che ai 17 ti inchiappettino cioè nel senso hai meno esperienza questo era tra l'altro tre anni fa quindi sarebbe stato ancora più facile madonna 14 anni c'è ma è 14 anni ma l'evento che vuoi l'evento dei tuoi sogni il quale vuoi andare a suonare ti direi che è sicuramente Tomorrowland dell'Ultra Music Festival è così ma c'è un evento che io sogno che è una cosa fuori di testa ma è suonare in piazza nel Vaticano con la console su dove il Papa fa le messe cioè quello lì è il quello lì sarebbe un evento in collaborazione col Vaticano cioè una volta che Papa Francesco io voglio vedere Papa Gardenghi Papa Gardenghi voglio andare lì e suonare con la vestaglia del Papa sapete che fratelli e sorelle Federico Gardenghi Amen Prima di iniziare con tutti questi Gengaina una preghierina Te lo auguro dai facci uno facci uno spoiler dai prima di chiudere uscirà qualche progetto Allora lo spoiler precedente che è uscita Hold Me un po' di tempo fa e il prossimo controllo la data più che altro non la ricordo aspetta aspetta che la trovo Vabbè si intrattieni il mentre esatto Allora uno spoiler però mi sa che non esce potrebbe essere un qualcosa a fine luglio o inizio agosto primi 15 di agosto ok in realtà non dico le date precise perché non le so neanche io non ho ancora finito neanche con le tracce quindi invece eventi in programma non ne hai perché non si può sì in realtà ho tutti gli eventi dell'estate 2020 da recuperare però non si sa ancora il più bello qual era che avresti dovuto fare più bello che avrei dovuto fare è tornare in Puglia tornare in Puglia perché la Puglia è proprio magari è tipo dove siamo noi dove vai? Bari eh Bari non siamo a tanto lontano sì ma fidate gli eventi che faccio a Bari sono è stato il primo evento in assoluto dove sono riuscito a riempire un palazzetto solamente con il mio nome un palazzetto? un palazzetto cioè no no aspetta di il numero di un palazzetto 12.000 12.000 complimenti ciao è stato quello lì è stata forse una delle soddisfazioni più grandi infatti è uno di quelli l'avete visto sicuramente l'evento quello su TikTok dove ho iniziato con Travis Scott con Psycho ma la sta continuando ancora la cosa su Clubhouse che io ogni tanto ti sentivo allora in realtà l'abbiamo finita perché lo facevo ci vedi di risetto sopra? no no parlava della musica non si ferma in realtà l'abbiamo finito perché l'abbiamo finito tutti probabilmente riprenderemo ho capito si è fermata? sì si è fermato la musica non si ferma si è fermata ci ha messo un attimo per arrivare ci ha messo un attimo a capirla in realtà volevo evitare di capirla però scusa io amo le battute di merda tranquillo no dicevo si è fermata si è interrotta si è interrotta si è stoppata perché l'abbiamo finito di fare tutti e perché era finito con un evento però perché mi viene da ridere si è interrotta perché l'abbiamo interrotta con un evento un evento in collaborazione con quelli che volevano interrompere gli eventi cioè la musica non si ferma ok in realtà che non volevano interrompere gli eventi però probabilmente lo riprenderemo anche se Clubhouse ultimamente sta un po' sta un po' scendendo sì ha robato cioè io ho comprato un iPhone ero felicissimo di usare Clubhouse oh raga ci sono veramente l'abbiamo già cancellato ovviamente l'ho già cancellato sì io secondo me sono arrivato proprio al limite perché ho finito di farlo due mesi fa un mese e mezzo fa e sono arrivato proprio al limite di Clubhouse ho iniziato facendo room da 500-600 persone ho finito con room da 30 io ero dentro le prime room che facevamo erano letteralmente fuori di testa facevamo competizione room di Zuckerberg una volta eravamo in competizione con una room di Elon Musk facevamo dei numeri fuori fuori di testa poi alla fine abbiamo finito con 10-15 persone a room vabbè ma penso che anche gli altri per meno perché poi scusami è che poi la roba brutta è che i live hanno ripreso cioè i cantanti più la musica in generale ha ripreso tutti i seduti eh sì però se ci pensi tu puoi fare un concerto ho visto i ragazzi del pagante che hanno fatto un evento di recente ho visto le loro storie loro lo possono fare però poverini anch'io vedevo le loro facce specialmente vedevo la faccia di Eddie il maschio lo vedevo anche lui mentre cantava che vedeva un pubblico di persone sedute con le mani così che diceva ma chi me lo stava ma chi me lo stava ma chi me lo stava io loro rispetto tantissimo sono il primo mianese che canta il pagante conosce ogni singola persona a memoria però anche loro essere lì con anche se erano mille persone è meglio di niente ma se lo dovessi fare io ma per te non è fattibile per me non è fattibile già ti dico per me gli eventi più difficili sono gli eventi con tantissime persone perché non si riesce a ballare no non si riesce a ballare però se metti una canzone bella vedi le persone le vedi uguali a come se mettessi il valser perché c'è talmente tanta gente che non ti rendi conto delle loro facce dei puntini infatti gli eventi più difficili sono in assoluto quelli con meno persone perché se tu sbagli una canzone in un club da 500 persone ce ne sono 20 la pista ti si svuota davanti se sbagli se sbagli una canzone con le mani in tremarella poi stai se sbagli una canzone in un festival da 30.000 persone non te ne accorgi neanche che vanno via fidati non te ne accorgi neanche sono più quelle che stanno entrando in quel momento non pensavo pensavo ti desse più soddisfazione ti dà molte più soddisfazioni te ne dà tante però sicuramente anche avere le persone davanti e riempire un club più piccolo ma dove vedi bene le facce delle persone e quando c'è casino senti il casino lo senti vicino anche quello ti dà veramente tanta soddisfazione infatti secondo me le cose più belle sono in assoluto i club quelli un po' più grandi quelli sono la cosa più bella i festival sono belli ma non hanno lo stesso calore delle persone al coco tu hai mai suonato al coco al coco ricò al coco ricò no a Corfu a Corfu no ti dico Corfu non ancora dovevo andare con i ragazzi di scuola zoo però non ancora dai vieni con RZ lascia stare assistenza di competizione lui si è un animatore di RZ ah scusa tia scusa c'è l'amico scuola zoo sì scusa tia tagliamo taglia dai vabbè oh è stata sì è stata una gran figata è stata una puntata più lunga mi sa ho appena realizzato che ha sette anni meno di te di me? sì vabbè di te sei sì fagli pensarsi di me che sembra che 7 era più cattivo no l'hai detto come io se fossi il vecchio capito 7 è il numero perfetto 8 9 con Comi 9 Comi che bello quasi decenni di differenza da Comi 40 con mio papà fantastico cin cin madonna con la mia birra super goduta e super bevuta grazie Fede sono felicissimo che tu non abbia bevuto l'analcolica per non mandare un brutto messaggio alle persone se dovete bere birra bevete la birra vera o non bevete madonna possiamo chiudere qua perfetto un bacio ragazzi ciao ragazzi grazie mille ciao Fede grazie